Entrando nelle carceri italiane si ha subito la sensazione che il lavoro per chi sta dietro le sbarre sia un lusso concesso a pochissimi. Con l'ordinamento penitenziario del 75 il lavoro è diventato parte integrante del trattamento rieducativo del detenuto in vista del suo reinserimento nella società. In carcere come fuori però il lavoro deve essere retribuito e l'amministrazione penitenziaria ha l'obbligo di garantire un'occupazione ai condannati. I numeri tuttavia raccontano un'altra storia. Complessivamente in Italia i detenuti lavoranti erano a giugno 2012 poco più di 13.000, meno del 20% del totale dei presenti, la percentuale più bassa dal 1991. E anche chi lavora spesso lo fa per pochissime ore a settimana. La conseguenza è che la stragrande maggioranza dei detenuti ha sempre meno modo di uscire dalle celle super affollate e di accedere al percorso di reinserimento nella società a cui ha diritto. Così per garantire a più persone di lavorare le direzioni degli istituti devono dividere i turni tra più detenuti che finiscono per lavorare 4 o 5 ore a settimana con paghe che a volte non superano i 30 euro al mese. Anche per il lavoro magari. Io lavoro da due anni. Come ora mi pagano al mese questi 70 euro al mese. Io sono sposato, ho due figli. Che aiuta la tua famiglia? Io aiuto loro. Loro hanno bisogno di me. Perché anche fuori c'è una situazione difficile, lo sai, crisi fuori e peggio dentro, con galera. I cosiddetti articoli 21, ovvero i condannati che possono lavorare fuori dalle mura del carcere, sono addirittura una rarità. A Regina Celi, ad esempio, su mille detenuti, uno solo di loro può uscire per lavorare qualche ora all'esterno. Il calo spaventoso di questi anni è dovuto ai bilanci sempre più stretti dell'amministrazione, caratterizzata da tagli sempre più drastici. Per capirci, i fondi a disposizione per pagare i detenuti sono passati dagli 11 milioni di euro del 2010 ai 3,1 milioni del 2012. Alcuni istituti, come quello di Latina, hanno visto dimezzati i fondi per i lavoranti, da un anno all'altro. Altri, come la casa di reclusione di Fermo, hanno a disposizione appena 5 mila euro al mese per le paghe di tutti. C'è poi il capitolo dei detenuti che lavorano dentro il carcere per aziende esterne. Call center, raccolta differenziata, digitalizzazione di interi archivi, sono tra le mansioni svolte dai carcerati anche per grandi aziende, come Hertz e Marcegaglia, che facendo lavorare i detenuti accedono a incentivi speciali. Dal luglio 2011, però, a causa degli esuberi degli anni precedenti, i fondi si sono esauriti e nonostante un'integrazione da 2 milioni di euro stanziata nel febbraio 2012, molte ditte esterne, già alle prese con la crisi economica, hanno dovuto rinunciare del tutto al personale dietro le sbarre.